amici di milan.soccer buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento a terrazza milan l'appuntamento quotidiano con i rossoneri l'avete riconosciuta lo faccio risentire ancora si è la canzone di cetola qualunque che abbiamo messo in copertina tra l'altro perché pensate la lungimiranza così come per tutti gli eventi più importanti che succedono negli stati uniti america e nel mondo i simpson l'avevano detto beh questa volta eccetto la qualunque ad averlo previsto vi ricordate quando diceva che alla brexit si dopo la brexit l'uscita della gran britannia dal dall'unione europea lui aveva previsto che calabria uscisse dall'italia è infatti questo 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 è accaduto prima però di dirvi perché vi dico subito se vi fa piacere di mettere mi piace questo video di condividerlo e se volete di iscrivervi al canale gratuito qui da queste parti ci deve essere una faccina stilizzata o comunque c'è scritto iscrivetevi e farete parte di milan punto soccer tutte le iniziative sul milan e le vogliamo però prendere così leggere le vogliamo come dire mescolare con tutto ciò che ci circonda perché il milan è tutta la nostra vita e quindi quando parliamo di cinema quando parliamo di musica quando parliamo di qualsiasi cosa il milan c'entra sempre e questa volta invece è al contrario è il cinema che è entrato nel milan beh a dire la verità sono abbastanza ironico e per fortuna il sarcasmo l'ironia aiuta a superare anche queste cose che si vedono e che danno davvero fastidio che cosa è successo appunto ieri che mi ha fatto pensare accettola qualunque accettola qualunque il personaggio di antonio albanese personaggio un po bizzarro che forse rappresenta in tutto e per tutto l'italia mi ha fatto un po arrabbiare il fatto che per le convocazioni dell'italia beh mancini chi ha fatto fuori ha fatto fuori calabria quindi calabrexit calabria fuori dall'italia devo dire la verità allora calabria ha avuto una curva come dire ascendente perché dopo prima del lockdown si era un po smarrito poi ha ripreso alla stragrande oggi è un giocatore completo è il nostro capitano quindi non si tocca e soprattutto al di là di alcune sbavature su alcuni momenti in alcuni momenti a me sembra che di terzini destri in italia non è che ce ne siano tanti del valore di davidino calabria per cui noi personalmente in casa nostra non abbiamo grossi grossi problemi nel senso non è quello il punto debole certo ha caratteristiche diverse di dateo hernandez sulla sinistra oggi fa coppia con best che è tutto da scoprire però noi ci abbiamo vinto uno scudetto anche alla grande con davidino calabria comunque i citi della nazionale a cui non sta proprio simpatico il milan ma ormai da tempo ha fatto delle convocazioni che vi vado a leggere dunque portieri per la dunque nation league 23 settembre a san siro a milano contro l'inghilterra il 26 a budapest contro l'ungheria ma arriviamo ai nostri portieri portiere del pari san germain gian luigi donna ruma alex meret del napoli provedel della lazio e vicari vita vicario dell'empoli difensori e qui arriviamo allora non calabria acerbi bastoni lui rifa l'inter bonucci non è un paese per giovani questo veramente di lorenzo di marco quindi siamo la difesa è tutta inter emerson palmieri del west ham federico gatti della juventus luiz felipe del betis siviglia pasquale mazzocchi della salernitana ne ho convocato e toloi dell'atalanta quindi è stato fatto fuori poi arriviamo al centrocampo tutta inter nicolò barella inter cristante della roma giorginio del celsi lorenzo pellegrini la novità la novità rossonera pobega del milan tonali del milan verratti del pari san germain quindi abbiamo un centrocampo che conta gli unici due nazionali del milan poi arriviamo all'under 21 dove non c'è nemmeno uno attaccanti cancellieri lazio gnoto leeds grifo friburgo griffondoro immobile politano raspadori scamacca e zerbin del napoli in questa in questo in questo in questa meraviglia manca il nostro capitano beh d'altro canto ha ragione mancini infatti mancini ci ha portato dove ci ha portato ai mondiali a no non li giochiamo mi ero dimenticato under 21 nicolati nicolato convoca fagioli e miretti che i convocati portieri caprile del bari plizzari pescara diciamo pescara sarebbe nostro sorrentino monza turati frosinoni difensori bellanova dell'inter cambiaso del bologna canestrelli del pisa cercati del parma cittadini del modena ocoli dell'atalanta parisi dell'empoli piro la della salernitana apprezzate a più nazionali la salernitana del milan ruggeri della tadite ma c'è poca c'è poca ci sono pochi italiani nel milan poi dopo li elenchiamo e poi andiamo a vedere quelli della primavera e del settore giovanile qui stiamo parlando del settore giovanile non ce n'è uno ruggeri dell'atalanta scavini scalvini dell'atalanta viti del nizza udoge dell'udinese questo è veramente forte bove della roma esposito della spalfagioli della juve miretti della juve ranocchia del monza rovella del monza mamma mia che monza ragazzi vignato del bologna è in attacco cambiaghi dell'empoli colombo che sarebbe il nostro del lecce esposito dell'anderlecht moro del frosinone pellegri del toglie io la chiuderei qui questa cosa dell'italia perché oggettivamente come dire dopo che calabria è stato fatto fuori e messo dentro bonucci è tutto è tutto un programma arriviamo alla serie a ieri sera si è giocato la salernitana perso in casa con in lecce oggi si gioca ancora le tre c'è bologna empoli e spezia sandoria alle 18 stasera torino sassuolo e poi si arriva alle cosiddette big a mezzogiorno domani c'è l'udinese contro come si chiama aspettate lo devo leggere perché la seconda squadra di milano all'inter udinese inter domani a mezzogiorno e 30 e poi si gioca nel pomeriggio fiorentina verona monza juventus e cremonese lazio alle 18 roma atalanta e domani sera il big match di cui parleremo approfonditamente domani che milan napoli rischia più il mila senza leao o napoli senza osimen questo è il punto di domanda ma che dire lo affronteremo come dicevo un po con più calma domani oggi ci tenevo a parlare della nazionale perché poi ci sarà un lungo periodo in cui staremo fermi eccetera eccetera direte voi beh ci stancheremo di meno sì ci stancheremo di meno però onestamente guardate che noi per quanto il settore diciamo così il settore giovanile a del dei giocatori molto importanti è vero che noi in prima squadra attualmente non abbiamo tutti questi italiani a parte il fatto che non c'entra niente italia estero eccetera però il la nazionale italiana per me che vede che vede convocare bonucci e non e non e non calabria per quanto i ruoli siano diversi mi ha un po destabilizzato però dicevo torniamo a milan napoli domani sera sarà tutto esaurito in quel di san siro come sempre in questo momento il milan è primo per presenza di tifosi di tifosi negli stadi diciamo in generale e per cui domani sera ci sarà il solito trasporto che sta diciamo così dando un valore aggiunto a questa squadra sarà un milan con salema che era a sinistra lo studiamo bene perché non facciamo formazioni affrettate ripeto domani mattina vedremo tutto questo quindi per adesso riflettiamo sulla cala brexit e riflettiamo un attimo su quello che potrebbe essere bene la squadra di domani e poi domani ci risentiamo saluti d'accetto